Fabio, ma che ci fai qui? Non vai in ufficio? Non ci vado più in ufficio. I sintomi sono quelli, è evidente. Ma è ancora presto. I genitori che dicono ce lo lasciano prendere? Non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro. Grazie a tutti.